E della Omicron, cosa sappiamo? Sappiamo che è molto più contagiosa, anche in base allo studio dell'Imperial College, diffuso oggi, e non sappiamo però dire se sia meno pericolosa della Delta. No, questo non lo sappiamo. Certamente, ecco, non lo sappiamo perché, ad esempio, perché non c'è nessuno che mente, ma è una variante che è stata identificata tre settimane fa. Dall'altra parte del mondo, tra l'altro, in Sudafrica, questa è una notizia buona, perché vuol dire che comunque le notizie circolano molto rapidamente e vengono condivise, ma è anche una notizia meno buona perché ovviamente non possiamo sapere come si sta comportando e come si comporterà. In particolare, le notizie giunte dal Sudafrica, dove ricordo che la popolazione che ha più di 65 anni è meno del 5%, mentre da noi è più del 25%, è scarsamente adattabile a quello che potrebbe succedere da noi. Quindi, ancora una volta, credo che le notizie che giungono sono relativamente confortanti, nel senso che indicano che la variante possa essere più trasmissibile, ma meno letale, o comunque non più letale di Delta, è comunque da tenere in considerazione perché in ogni caso un incremento straordinario dei casi porterebbe gli ospedali comunque ancora in questo caso ad essere sotto pressione. Gianrico Carofino